Grazie a tutti Un posto fantastico Guarda cosa sei, guarda cosa sei Guarda cosa ho portato, guarda chi ho Stefano la tentadora, l'ultima iniziativa dei pazzi di ragmi per l'associazione Autismo Insieme Ricavato per beneficenza come sembra Devoran Devoran Colleme Vieni che parliamo del 18, vieni Cos'è che succede con il 18? Il 18, guarda che succede Supercena al Madai con paella e sangria a volontà Sangria a fiumi, menù 15 euro 15 15 euro, una cena qua fantastica 10 euro, vanno in beneficenza Sempre l'associazione Autismo La fiorella è una grande Il 18 luglio signorai Qui sempre, venite, venite signori Venite, si prenotte Ciao ragazzi Mi raccomando e vi aspetto Qualma dai con Devoran E Stefano Ciao 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 Ciao